Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo di metodo di studio di CEOX. È un argomento che abbiamo trattato in uno o due video. In particolare uno l'avevo già dedicato a spiegarti in cosa consiste questo metodo di studio secondo me particolarmente utile a livello universitario, meno a livello scolastico ad esempio, ed è sostanzialmente un metodo che si sviluppa in sei fasi. Adesso andiamo a riprendere velocemente quali sono queste fasi e in cosa consistono, ti spiego a cosa serve e soprattutto andiamo a vedere oggi un esempio pratico. Quindi se vuoi andare a riprendere più nel dettaglio come è costituito questo metodo, ti rimando al video che ho già creato proprio in merito a questa spiegazione approfondita. Oggi invece andiamo a vedere come si applica nella pratica. Quindi prima di passare all'esempio vero e proprio, che oggi si riferisce a una teoria, si chiama dal Medium iMassMedia, e nello specifico andremo a vedere il Medium fra cultura e tecnologia, una cosa che ci interessa di più però è capire quali sono queste sei fasi. Digox è un acronimo e il primo sta per Description, quindi Descrizione. Devi andare a cercare di capire per riuscire a descrivere l'argomento che stai studiando. Il secondo è Inventor or History, cioè inventore o storia. Perché questa fase particolare che in genere non si trova nei metodi di studio più classici? Perché è particolarmente utile, come ti dicevo all'inizio del video, come metodo di studio, per studiare per esempio le teorie scientifiche. A livello universitario ci sono tantissime teorie scientifiche in qualunque ambito universitario, quindi è particolarmente utile. O al massimo riprendere un po' l'evoluzione storica dell'argomento che stai studiando. Questi sono due elementi o intercambiabili o che puoi integrare all'interno della stessa fase. La terza fase sta per C per Consequences, quindi quali sono le conseguenze, gli effetti, potremmo dire in modo più semplice, di ciò che stai studiando. Soprattutto quali sono gli sviluppi di quel qualcosa, di quel tema. La E sta per Evidence o Evidences, quindi quali sono le prove o qual è la prova a sostegno della teoria. Appunto che stiamo studiando, ripeto, fa molto pressione sull'aspetto delle teorie scientifiche, ma vedrai che è molto flessibile e lo puoi applicare comunque. O Stapper Other Theories, quindi altre teorie, altri modelli che hanno spiegato lo stesso argomento che stai studiando. E infine la X-Stapper Extra Information, quindi informazioni aggiuntive che ti permettono di arricchire l'argomento. Quindi, rapidamente, queste sono le sei fasi. La cosa che dobbiamo andare a fare adesso è leggere una parte, adesso leggeremo una piccola parte insieme. Dopo aver fatto questo, possiamo cominciare a ricercare nel testo queste sei fasi, così da capire come si possono convertire a livello pratico. Al solito, insieme, partiamo da una breve e concisa lettura. Il medium fra cultura e tecnologia. Nell'analisi dei media, possiamo fare riferimento a due concezioni prevalenti, la prospettiva culturale e la prospettiva tecnologica. Mi fermo già dopo aver letto un rigo e mezzo, perché come vedi, avendo la lente, avendo il filtro di questo metodo, stiamo già capendo che ci sono due prospettive diverse, quindi due modelli diversi. Ecco che abbiamo già trovato uno degli elementi, che poi adesso andremo a rivedere più nello specifico, ma già sai che il metodo sta entrando in azione, perché abbiamo subito riconosciuto le prime informazioni. La prospettiva culturale. Quindi questo è il primo dei due modelli. Per tale prospettiva, il medium costituisce un artefatto, ossia un dispositivo di mediazione fra uomo e ambiente. In quanto tale, esso costituisce un vincolo e una risorsa nel raggiungimento dei traguardi comunicativi. Questa attività di mediazione, infatti, pur contribuendo a organizzare e a dare forma alla comunicazione tra le persone, non la determina in modo completo. Vi è quindi la possibilità di modificare i media e di introdurne di nuovi, così da perfezionare e potenziare le opportunità di comunicazione. Quindi proviamo un attimo a fermarci qui, vediamo quanto possiamo trovare del metodo di Chox in questa prima parte che abbiamo letto. Quindi la prima cosa che troviamo, l'abbiamo già trovata prima, è la O, quindi altre teorie, altri modelli. Sappiamo che stiamo leggendo, stiamo studiando la prospettiva culturale e un altro modello è la prospettiva tecnologica. Quindi già abbiamo individuato questo primo aspetto. Ora, torniamo all'inizio. C'è una descrizione? Stiamo trovando qualcosa che descrive ciò che stiamo studiando? Ovviamente sì. È la descrizione nello specifico della prospettiva culturale, che ci definisce appunto il medium come un artefatto e qualcosa che ci permette di arrivare a dei traguardi comunicativi, sostanzialmente tra l'uomo e dall'uomo, scusami, nei confronti dell'ambiente. Quindi questa è la descrizione molto generale, molto sommaria, ma già stiamo passando da un elemento importante, quindi la presenza di più modelli, a quale è la descrizione? Altro elemento importante. Ora, finora, per esempio, non abbiamo incontrato ancora nessun inventore, potremmo dire. Quindi ancora la fase I non l'abbiamo riscontrata nel testo. Continueremo a leggere ovviamente per capire se c'è. Prima di fare questo, vediamo per esempio se ci sono delle conseguenze. Io, per esempio, ne individuo una qui. Ovviamente è molto in base a quanto comprendi del testo. Quindi io, per esempio, vedo come conseguenza il fatto della possibilità di modificare i media e di introdurne di nuovi, così da perfezionare e potenziare l'opportunità di comunicazione. Quindi così si capisce che da quello che abbiamo appena letto si deduce che ci sono delle conseguenze. Quindi la descrizione che abbiamo fornito, o perlomeno che il testo ci ha fornito, ci ha guidato anche in direzione di conseguenze. Questo è il classico movimento tra causa ed effetto, che ci permette di comprendere il perché delle cose che accadono, che poi vengono sostanzialmente riportate nel caso specifico dell'argomento in questione dal testo. Vediamo se ci sono delle prove a sostegno. Possiamo dire che potenzialmente qui ancora non ce n'è di particolarmente determinanti, quindi proviamo a leggere ancora, così da cercare delle prove a sostegno, vedere se si parla di qualche inventore o di qualche storia e se ci sono delle informazioni aggiuntive che ci possono essere utili. In quanto prodotti culturali, i media svolgono una funzione cognitiva, poiché sono strumenti per partecipare e distribuire socialmente conoscenze e credenze. Quindi qui, per esempio, potremmo cominciare a vedere un inizio di una prova a sostegno, cioè il fatto che noi stiamo parlando di qualcosa che riguarda l'uomo e stiamo cominciando a trovare un riscontro nel fatto che, in quanto funzione cognitiva, questo ci permette di utilizzare i medium come degli strumenti per quindi partecipare e distribuire socialmente conoscenze e credenze. Essi hanno predisposto il terreno e messo in moto i dispositivi per dare origine alla società della conoscenza, chiamata anche Knowledge Society, dove le competenze cognitive e comunicative prevalgono nettamente rispetto a quelle manuali e operative. Qui, per esempio, trovi, come riferimento alla fonte, la presenza di qualcosa che fino a prima non c'era, cioè il riferimento a uno, in questo caso a due autori, che hanno prodotto qualcosa nel 94 e nel 2003. Quindi già qui possiamo trovare il riferimento a due personaggi, due inventori o comunque due soggetti che hanno determinato, seppur in parte, ma già è qualcosa di importante, la storia dell'argomento che stiamo studiando. Quindi magari non hanno inventato niente, ma hanno comunque determinato il percorso di sviluppo di questo argomento. Ecco che abbiamo trovato, finora quindi, sia la descrizione, che è stato l'inventore in questo caso, fa riferimento a due autori, più sotto ne troviamo anche un altro, e ce ne saranno sicuramente anche molti altri, e quindi abbiamo avuto anche un po' un'idea dello sviluppo cronologico, puoi vederlo per esempio anche dalle date. Poi parliamo di conseguenze, l'abbiamo viste prima, quindi la possibilità di modificare i media, introdurre di nuovi, eccetera. Abbiamo trovato delle prove a sostegno, quindi l'aspetto della funzione cognitiva e del distribuire socialmente conoscenze e credenze, che poi, come vedi, ha portato alla creazione della società della conoscenza. Altre teorie e modelli, queste sono state le prime che abbiamo trovato proprio all'inizio, qui sopra, e poi possiamo creare un piccolo spazietto per informazioni aggiuntive. Quindi, per esempio, potremmo andare a cercarle dicendo che la società della conoscenza, che è un po' il risultato di tutto quello che abbiamo visto finora, anche se è una piccola parte, può funzionare, quindi, come quella società in cui le competenze cognitive e comunicative prevalgono nettamente rispetto a quelle manuali e operative. Queste possono essere informazioni aggiuntive e che riempiono, che completano il nostro modo di studiare l'argomento. Quindi, come puoi notare, come puoi vedere, un metodo così strutturato ci aiuta a leggere, non solo in modo diretto, ma anche a essere in grado di leggere tra le righe, potremmo dire. Quindi capire ogni elemento di ciò che leggiamo, che ruolo svolge per poter spiegare l'argomento dalla parte di chi scrive il libro e da parte nostra per poterlo comprendere in modo corretto. Quindi ti invito ad utilizzare questo metodo su quello che devi studiare. Fammelo sapere nella sezione dei commenti o, se vuoi, se non vuoi sport in pubblico, anche in privato, trovi tutti i link che ti possono servire nella sezione della descrizione. Il video di oggi finisce qui, quindi questa è la versione pratica del metodo di studio di CEOX. Come ti ho detto all'inizio del video, ti invito anche a riprendere il video in cui ti spiegavo in che cosa consiste questo metodo se vuoi prima avere una formazione più chiara su cosa devi fare esattamente per applicarlo, quali sono i dettagli, come approfondirlo nel modo corretto. Io ti ringrazio, come sempre, per l'attenzione che mi hai dedicato e che mi dedichi, e con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani.